Ciao a tutti ragazzi sono iPhone Amatore e benvenuti a tutti quanti in questo nuovo episodio un attimino garza il volume se non manco me sentite va bene ragazzi benvenuti in questo nuovo episodio dell'Hunger Games di martedì prima di iniziare a fare il video ringrazio l'utente Zebra3239 se non sbaglio grazie mille perché prima di fare questo video ho chiesto dei coin perché tutti quanti logicamente grazie ancora mille a voi mi avete chiesto di fare il video con il kit ghost allora il kit ghost costa l'ira di dio non lo so tipo chiamo dio e dice no aspettate ragazzi costa 36 coin brutte cacchette quindi coin by ghost mi avete fatto comprare sto kit ghost un'altra volta anche se sapete benissimo che io lo sfrutterò malissimo il kit ghost no dovete appunto saperlo perché purtroppo non posso fare un secondo video perché non ho più coin Giuseppe Nistico non mi ricordo di te non so scusami non mi uccidere quindi non vi aspettate un video tipo che duri 40 minuti 50 minuti no no con iphone amatore i video massimo 5 minuti poi o muore oppure no non ci sono altri motivi per cui il video non può andare avanti muore e basta ok minecraft a 30 fps bellissimo ok minecraft si è ripreso invece di 30 me ne fa 60 wow il doppio allora questa qui è la mappa non so se la conoscete con l'apartamenta io andrò nella barchetta nessuno mi vedrà tu non mi vedrai tu non mi vedrai tutti non mi vedrete perché io sono un ghost che se ne va dentro l'acqua ciao oddio no è così bassa l'acqua che neanche riesco a cadere e soffocarmi allora spero che questo video duri tanto veramente tanto però appunto non vi aspettate nulla grazie ti ringrazio che tu sei il mio iscritto grazie a tutti i ragazzi perché vedo che state aumentando però in un giorno ho fatto meno sei iscritti non me la spiego questa cosa però vabbè forse perché sono un deficiente quindi me lo aspettavo vabbè iniziamo a correre così me lo prenderò le cose dalla cesta perfetto danno la roba dentro la cesta danno la roba più inutile la va a prendere iphone amatore allora togliamoci da qua ok intanto ho scoperto che un altro un'altra personcina si è iscritta al mio canale che bello mi arrivano le mail sull'iphone ok no 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 cioè come fa a vedermi non mi stai vedendo vero non mi stai vedendo brutta cacca perfetto perfetto posso farmi la mia piccola spada senza che nessuno mi rompa le palle me la faccio in pietra così almeno vado direttamente sul sodo perché ad iphone piace sodo e non pensate all'uovo ma proprio al pisellone non è vero allora perfetto oh un uomo invisibile con una crafting table che svolazza nel nulla perfetto nessuno deve vedere che io sto facendo una spada se no mi killano subito cioè io una cosa più inutile non la potevo prendere un fiore un fiore via giù fiore allora mangiamo delle mele qui nascosto senza che nessuno mi vede perché la mia dieta è non mangiare mele oh che cazzo oh oh come hai fatto a vedermi brutta merda allora oh che cosa stai facendo te lassù se vengo lì ti sdrumo perfetto allora mi stanno già colpendo questa cosa non mi gusta molto eh fire pixel mi sta legillando non so se l'hai presente questa cosa allora io mi fingo tipo una non devo prendere tutta quella roba che cazzo fai mi vedi la gente sembra che mi vede raga ma non lo so forse lui ha visto qualche cosa oh 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 aspetta ok 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 no 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 a fila densa ok nessuno mi deve vedere nemmeno tutti e l'arco il piccone non ce la faccio più pa 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 no 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 no, minority perfetto, guarda po' che aff exercise 1 perfetto allora ah ah Cazzo, lo sai, è esploso tutto Un macello, guarda che macello Si è distrutto Oh, frecce, salve frecce Come sta andando, frecce Devo prendere solo le frecce, non devo prendere altre cose Ok, ho preso altri quattro archi Oh, oh Lui non sapeva niente Lui non si aspettava niente, ragazzi Lui non si aspettava niente Ah, 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 ah E poi dire un alberello, così Per non farmi vedere Accendino L'accendino me lo prendo Guardate la roba, cioè Lì c'è una cosa, allora Missioni impossible, missioni impossible Prendere Anzi, prendersi tutta l'esperienza che c'è qua Dentro questi barattolini Che li rompo e sentite il bellissimo rumore di vetro Perfetto E ora nessuno mi deve vedere Perché devo prendere un'altra spada senza niente Ok, questa qua Ah, no, no, non devo farvi vedere nessuno E io ho delle spade in mano C'è una persona che io adesso andrò a killare Ah, 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 ah Eh, petto Eh, ecco qua Che mi dai? Flaggello degli altropodi Un bastone non si può, vero? Oh, un arco Ah, no, ho spiegato tutte le cose che avevo Complimenti Ai fonti faccio i miei complimenti Prendiamo un po' di esperienza La lana Gliela dai a tua sorella per favore Perché io non la voglio Sta a 41 di distanza sto progetto Onde stai? Oh, oh Incontro tra Ghost Eccolo però Lui non è molto furbo come Ghost Perché io ti killo? E ti ammazzo Oh, oh, oh Mamma mia Mamma mia E sparisce nel nulla Nel nulla più totale Sì, sì Tu pensa Tu pensa a chi l'ha quello Sì, sì Oh, lana di merda Che sei di un pazza Attenzione Attenzione Nessuno si aspettava di Brutto figlio No, ragazzi Io sto comando Dove ti spiegare Faccio un salto Guarda Oddio Fermi Ok, vi spiego da qui Cosa è successo Sono morto Porca trota Sono morto Cioè, ho fatto un po' di kill Cioè, ho ucciso anche un altro Ghost Quindi la cosa è veramente epica Però sono morto Come una merda Cioè, non capisco L'ho colpito Con affiladezza a uno E non è morto Faccio un altro salto Ma che è meglio Così mi sfogo Oddio No, di sotto magari Perché Cioè, non è la cosa migliore Andare di sotto Mentre parlo Ecco Perfetto Complimenti Volevo proprio andare qua Per spiegare la roba Sì, sì Va bene ragazzi Il video finisce qui Spero che vi siate divertiti Perché io sì Stavolta mi sono divertito Boh Ok, sì Anche il server si diverte A farmi uccidere A farmi morire Ho preso un colpo Pensavo che stavo tipo Diventando un Super Saiyan Sì Ok, va bene Basta così Penso che il video Possa anche finire Me ne vado di là Che figata Sti cosi Mi gustano troppo Vabbè Perfetto Oh, salve Salve umani Vabbè Basta Allora ragazzi Il video finisce qui Mi dispiace che sono morto Ma veramente Non me l'aspettavo neanche io Non so come ho fatto A colpirmi lui subito Vabbè Un saluto a tutti Da iPhone Amatore Vi ricordo che Nel prossimo episodio Aspettate che qui Ho un conto in sospeso Con Ok Nel prossimo episodio Sceglierò un kit Consigliato da voi In questo video Quindi Qui sotto Potete scrivere Il kit che vorreste che scelgo Nel prossimo video Stavolta ho scelto il ghost E ringrazio ancora Zebra Per avermi dato Sto facendo un macello Per avermi dato i coin E appunto Lo ringrazio Perché senza di lui Non avrei fatto il video Quindi ringraziatelo anche voi Se volete Se no Ringraziate Non è che devo decidere io per voi E Niente ragazzi Il video finisce qui Cliccate mi piace Se vi è piaciuto Commentate con un kit Che vorreste che scelgo Nella prossima puntata Qualsiasi kit Basta che non sia 150 coin E Iscrivetevi Se non siete ancora iscritti Ulteriore cosa che vi chiedo Lo so Non lo so Che non volete farla Vi capisco Se volete condividere il video Con altri vostri amici È logico Io non è che me sto a costringere Non è che me sto a pagare È una cosa Se volete farlo bene Se non lo volete far Sti cazzi Cioè È una cosa che Aiuterebbe me Se volete aiutarmi Bene Un saluto a tutti da iPhone Un saluto a tutti da iPhone Amatore E iscrivetevi al mio canale Se non siete ancora iscritti Ciao